Buongiorno, oggi siamo a San Giuliano Milanese in via Trieste, una delle zone del centro del comune e vi proponiamo un bellissimo bilocale posto al primo piano di questa palazzina anni 50. L'ingresso come vedete è su questa zona condominiale, la cosa particolare è che sono solo 5 unità abitative. Andiamo a vedere gli interni. Eccoci alla visione dell'immobile, come vi dicevo oggi vi mostriamo questo bellissimo bilocale in questa palazzina anni 50 posto al primo piano. Erano solamente 5 famiglie, il condominio di basse spese condominiali. L'immobile è stato completamente ristrutturato. Alle mie spalle abbiamo la zona d'ingresso che da su questa che è la zona cucina, una cucina che è sfruttata sulla mia sinistra con la parete attrezzata, mentre frontalmente abbiamo la zona lavandino. Tavolo, da qui ci spostiamo nella zona giorno, facile da arredare con un divano con la parete attrezzata. Godiamo anche di questo piccolo balconcino. Nella ristrutturazione sono stati sostituiti gli infissi, pavimento, impianti idrauliche, impianti elettrici, porte, completamente a nuovo. Il proseguo dell'immobile da verso la zona notte, dove prima dell'entrata della camera matrimoniale, alla mia destra abbiamo il bagno. Porta scrigno per recuperare lo spazio. Il bagno è suddiviso in due ambienti. Il primo, dove abbiamo la zona lavandino con caldaia e attacco della lavatrice, mentre poi la particolarità è che nell'altro lato abbiamo i sanitari e il piatto doccia. Terminiamo con la camera matrimoniale. Anche qui abbiamo una porta scrigno per recuperare lo spazio. Questa bella camera matrimoniale ha in dotazione una bella cabina armadio. All'entrata sulla sinistra abbiamo il letto con i due comodini, frontalmente questa cabina armadio con questi pannelli che va a dividere dalla zona dei vestiti. Stiamo uscendo di nuovo nel cortile, abbiamo terminato la visita dell'immobile e vi andiamo a riepilogare brevemente ciò che vi abbiamo mostrato. Bilocale, anni 50, posta al primo piano, sono circa 60 metri quadri con balcone completamente ristrutturato. L'immobile è disponibile sul nostro sito www.immobiliarefreedom.it presso le nostre sedi. San Giuliano milanese via Massimo Corti 8, San Donato milanese via Morandi 23, Milano via Milano delle Armi numero 5. Vi aspettiamo di persona dove un nostro collaboratore vi accompagnerà all'interno dell'immobile per una visita guidata. Immobiliare Frido, liberi di scegliere i migliori.